Docente uccisa da un pipistrello intrappolato nella sua aula. Come prevenire e agire in caso di emergenza? Lea Seneng, 60 anni, insegnante d'arte, è deceduta per rabbia dopo il morso di un pipistrello intrappolato nella sua aula. Una collega racconta che Leah avrebbe creduto il pipistrello morto, ma è stata morsa mentre cercava di spostarlo. Dopo il morso, Leah ha sviluppato sintomi come febbre e stanchezza, peggiorando gravemente fino al ricovero ospedaliero. Le autorità sanitarie per questi casi avvertono di lavarsi subito le mani e verificare la presenza di ferite. Il vaccino contro la rabbia viene consigliato come prevenzione. Il vaccino contro la rabbia viene consigliato come prevenzione. Il vaccino contro la rabbia viene consigliato come prevenzione.